buongiorno a tutti aggiornamento fitosanitario settimana di ferragosto abbiamo detto gran caldo e quindi questo ha limitato lo sviluppo dei parassiti e dei patogeni della vita naturalmente questo è valido in termini generali ma non assoluti perché abbiamo delle zone e qui siamo in lugana che è una zona di questa tipologia dove le umidità notturne sono importanti qui abbiamo una centralina che registra quasi tutte le notte 6-7 ore di bagnatura fogliare notturna naturalmente le 6-7 ore di bagnatura fogliare notturna abbiamo visto per buona parte del mese di luglio non hanno determinato l'avvio di nuove infezioni ma le bagnature fogliare notturne associate con una pioggia che è capitata esattamente 5 giorni fa il giorno 8 sono caduti 15 mm con un temporale ha portato all'avvio di nuove infezioni di peronospora oppure alla sporulazione delle esistenti vedete che lo sviluppo non è uno sviluppo di quelli standard diciamo stende avere appunto la forma a mosaico anche su foglie molto giovani tendenzialmente si vedono delle imbiancamenti che sono riconducibili alla peronospora mosaico vedete che queste vanno in sporulazione naturalmente le vecchie infezioni ormai sono secche quindi non hanno forma di sporulazione ma abbiamo appunto questa situazione di avvio di nuove infezioni quindi in generale dove il clima è secco e dove non ci sono bagnature fogliare notturne vi dico che potete prendervi tranquillamente le prossime piogge senza grandi problematiche dove invece avete condizioni come quelle di questa area che è Lugana e di questo vigneto perché questo è uno dei vigneti più particolari della Lugana o almeno tra quelli che seguiamo noi naturalmente il consiglio è di non farvi scappare le infezioni secondarie vedete che qui ci sono questi ingiallimenti puntiformi su questa foglia e secondo me poco per volta usciranno delle vedete lì c'è un pochino di muffetta in quel punto qua stanno uscendo delle micro infezioni di peronospora chiamate appunto peronospora mosaico quindi in questo caso ci ne veremo e tratteremo però in generale si può ridurre l'attenzione ma non ovunque e non tutti i vigneti naturalmente la foglia vecchia non patisce questo tipo di sintomatologia quella che la patisce molto è la foglia giovane vedete quelle punti nature nerastre in quel punto lì di fatto trovano corrispondenza sulla pagina inferiore con lo sviluppo di un pochino di muffetta biancastra quindi è una sporulazione da peronospora le foglie intermedie naturalmente tendono a stare pulite ma le foglie nuove si segnano qui naturalmente come vedete dal filare andremo a fare una cimatura quindi tutta questa roba verrà messa a terra però abbiamo un potenziale inoculo molto forte quindi è preferibile fare un intervento per il controllo soprattutto in previsione del fatto che tra sabato e domenica dovremmo avere altre piogge Oidio non ne abbiamo un gran che stiamo monitorando Tignola ma su quello magari vi faccio un video a sé per vedere se vediamo le ovature e lo sviluppo delle larvette buon lavoro a tutti e buon ferragosto grazie